Il volo ragazzi, bentornati, noi ci vediamo sempre per le feste, ci siamo visti per le feste natalizie, adesso ci ritroviamo a Pasqua, insomma come è iniziato questo 2011 per voi? Beh sicuramente nei migliori dei modi, stiamo preparando l'uscita mondiale Attenzione perché fra poco esce l'album in America, vorrei solo dirvi che questi tre ragazzi qui come prima partecipazione saranno ospiti di un programma che si chiama American Idol che è uno spettacolo televisivo che c'è soltanto 40 milioni di spettatori, cioè una cosina piccola, poi vanno da Jaylino, vanno da Letterman Show, fanno praticamente gli spettacoli più importanti Quanta emozione c'è ragazzi? Emozione tanta perché incontri nuova gente che ti trasmette sempre cose nuove Vogliamo intanto salutare, ringraziare Tony Renis, Michele Torpedini che hanno fortemente voluto questo cd con la produzione di Umberto Catiga Contiene veramente brani famosissimi e so che state preparando anche la versione in spagnolo, vero? Sì, la versione spagnola dell'album che uscirà entro il 24 maggio con un nuovo singolo in spagnolo Ma possiamo già avere un'anticipazione di un titolo? Sì, sono tutte le canzoni, è il mondo, nostro amore smasca e grande Tutte le canzoni in spagnolo Tanti auguri allora, il volo! Speriamo che questo volo non finisca mai, ragazzi veramente, tanti 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 augurissimi Ciao, grazie Il volo! Grazie Grazie